adesso di testa che gioca il cr7 qua stoppala no stopparla non la prima cosa abbia a fermarla stoppala dai stoppala e tiramela adesso così guarda adesso così tacco fermala e fai il tacco fai il tacco vai metti il tacco no così vieni qua così vieni più avanti questo piede più qua così ecco e adesso col piede ma questo piede devi metterlo qua questo qua no l'altro ok adesso con l'altro dietro calcia vai 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 Grazie a te, grazie a te.